E' un'impe nero, 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 e' un'impe n in connega Questo. Ho, tutto? . Aplicun l' aunque vattente anche dal VALENTINE. Ragazzi non succedeva poco via mica. S commandments come Home Run. Pagpipalo. Dì n'accordo che non si può sapere. Grazie a tutti. Ok, bye bye. e 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 Mr. Hamming, please proceed to the laboratory room for check-up. E Doc, e 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 c e e e E M ma prescribile la tambale, però i take si 3 times a day per 4 mesi, per quanto riguarda la giudica. Dio, non c'è più facile, non c'è più facile, non c'è più facile, non c'è più facile. Non c'è più facile, non c'è più facile, non c'è più facile. Non c'è più facile, non c'è più facile, non c'è più facile. Però, non c'è più facile? Però, mahal d'yon siya. E 50 times good ang iambisio, sa tambale, na akong ipaprescribe sa ibang. Sige, Doc. Però, pila manpun ang gasto. 30,000 pesos, Mr. Hamming. Kung naka'y 30,000 pesos karun, pwede nata ka matambalan. Takua, Doc, eh. Eh, sulit na lang, Doc. Mag-tigom sa'ko. Basin, next week, makatigom, makatigom na ko, Anna. Mabalik rako, Doc. Doc, salamat, Doc. Sige, Mr. Hamming. Non c'è, non c'è, non c'è. Sige, non c'è. Olong, che? Sige. Ilasen d'yemone. Non c'è, non c'è. Non c'è. Un c'è, non c'è. E adesso? Oye, teca. Toalong, doy. Lo dì. Oye. Non c'è lui? Pag'ing dai? It's ma per te. A ce l'altro? Mi ragazzo. Si? Ci mi ragazzo. Tu fai un ragazzo? La sua scena. C'era l'ugierà. Non si è un problema. E di eh, ma ganit eh, wala ka na grabihan ba? Oh nga. Napa, ma non si è un uomo? Umiyak ka ba pre? Ma l'allà man pa eh, bisogna fare un'anno per una parte, per quanto bisogna di tutto. C'è un paio? C'è un po' di tutto? La stella. Mi sono a lungo, mi sono ingrati. Bisogna una schiazza per fare la tua vita. Perché ho potuto il tuo lavoro per la tua vita e non lo si mati. C'è un paio? C'è un paio? Oi, c'è questo, avevo fatto l'occhio alla burra. Ma devo sentire qualcosa di qua qui? Perché hai un sizedetto? C'è l'occhia? È un contenuto? Ma, hai bisogno di il tuo modo? Of il se giore di un altro insieme? Ma, hai bisogno si è un combinatore che sei stato di morte? C'è l'ultimo, ma l'ultimo di Mimimigood. O nga, pre, l'ultimo, l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. Quindi, l'ultimo? O nga, pre, l'ultimo, l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. L'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. O, wala nga ba? Oo, uuy! Kanos akong nag-binuang ni mo? Kung talagang desperado ka magka-pera, pre, may racket ako para sa'yo. Ano sa mabud na? Di ko dapat ito gagawin, kasi delikado, pre. Pero nahawa talaga ako sa'yo. ma ora e si bello mi ma mati non... non si no l'abbiamo chiamare l'abbiamo per garanto dove qui c'è la p'è si è ma lì mi è drugstore però se è un po'umber magari pera puoi un pietro puoi un pietro mo'y benta con l'anno C'è questo, mi piace molto. Mi sembra un po' di più. Mi sembra di vedere una? O, Preg, nel 1 settembre, mi sembra di 50,000. Ma che? Mi sembra, ho fatto una volta che sono. E, quando sono i miei dei suoi, o quando sono i prospettino per farlo? è il primo ma c'è il caso ma quando si impianti si lo impianti 60% si è inizio è ok? ok ok ma cosa cosa? ok non ma ma C'era, alam po naman di mo'ho tataloy. Ah, grabe po'y kakabay. Mara po'y pilih kaila. Ma lo and sa'am ma l'akonin. Pagbaligyan o kakinsa. Tagpila mo, punting isa ka sa Shea. Basta. Sabihan mo nalang yung mga buyer ko na ikaw na'y magbibenta muna ngayon. Sessend ko yung picture mo sa kanina. Tapos, kung magkano isang... Sabihan natin sa Shea at yung isang bloke, ma-text ko nalang rin sa'yo. Basta, alam ko naman number mo. Ito pa rin ba number mo? Oo, maudya po na. Sige. Basta. Sabihin ko nalang sa'yo kung ano yung proseso, kung atsaka kung magkano at kung saan yung eksaktong lugar. Para hindi na magka hirap-hirap. Sige, sige. Sige, bay. Salamat, gaybay. Tapos, pinag-tabang sa pamilya. Salamat, gaybay. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.